Durace anche 300 anni, una vita di eccessi e piaceri sarebbe un attimo, in confronto all'eterna beatitudine. Benedetto colui che percorre il sentiero del bene, perché conoscerà l'arcana dolcezza nascosta nelle scritture. La imitazione Cristi. Tempo fa Nagasaki sarà un giovane giapponese che veniva chiamato Lorenzo. Alcuni frati lo avevano trovato una notte di Natale davanti alla chiesa di Santa Lucia, esausto e affamato. Mossi da compassione lo avevano preso con loro. Quando gli chiedevano qualcosa sul suo passato, diceva sempre di venire dal paradiso e che il nome di suo padre era Dio. E guardando il rosario di zaffiri che aveva legato al polso, si intuiva che i suoi genitori dovessero essere tutt'altro che miscredenti. Pertanto i padri e gli altri confratelli non nutrierono mai alcun sospetto nei suoi confronti e anzi si presero cura di lui con grande amorevolezza. Il padre superiore rimase senza parole nel constatare quanto fosse intensa la sua devozione per nulla tipica di un ragazzo della sua età. Si diceva persino che potesse essere l'incarnazione di qualche cherubino e sebbene non sapessero da dove venisse né di chi fosse figlio, divenne oggetto dell'affetto incondizionato di tutti. D'altronde, con il suo viso puro e candido come una pietra preziosa e con il tono grazioso della sua voce femminea, si sarebbe accattivato le simpatie di chiunque. Per padre Simeone in particolare, giapponese anche egli, Lorenzo divenne una sorta di fratello minore. Lo accompagnava sempre, dovunque, fuori e dentro la chiesa, tenendolo per mano. Proveniente da una famiglia di samurai, in passato padre Simeone era stato al servizio di un daimio. Era alto e forte e più di una volta quell'omone dall'aspetto erculeo si era trovato a difendere gli altri frati dal lancio di pietre degli infedeli. La solida amicizia con Lorenzo gli faceva sembrare un'aquila e una colomba che volavano assieme. Ricordavano i rami intrecciati di un cedro del Monte Libano, tanto erano affiatati. Passarono tre anni e venne per Lorenzo il tempo di diventare uomo. In quel periodo iniziò a girare la voce che fosse in intimi rapporti con la figlia di un ombrellaio che viveva poco distante da Santa Lucia. L'anziano credeva in Dio e così era solito andare in chiesa accompagnato dalle figlie. La ragazza non staccava mai gli occhi da Lorenzo, nemmeno mentre agitava l'incenso durante le preghiere. Per non parlare della cura con cui si sistemava gli splendidi capelli quando si soffermava a guardarlo fuori dalla chiesa. Ovviamente, tali dicerie arrivarono presto anche all'orecchio dei frati. Per alcuni di loro era stata la ragazza a provocare Lorenzo, mentre altri si dissero sicuri che tra i due fosse in atto uno scambio di lettere d'amore. Nemmeno il padre superiore poteva ignorare quanto stava succedendo. Lorenzo, circolano strane voci su di te e la figlia dell'ombrellaio. Sono solo chiacchiere, non è così, gli chiese con dolcezza mordendosi la barba bianca. Lorenzo scosse tristemente il capo. È assurdo, come potrebbe mai succedere una cosa del genere? Negò più volte, con la voce rotta dalle lacrime. Il padre superiore non insistette. Era giovane, così si convinse della buona fede del ragazzo e si limitò a una ramanzina sulla buona condotta quotidiana. Ma se i sospetti del frate si erano dissipati, quelli dei fedeli che si recavano a Santa Lucia non se ne andavano così facilmente e chi ne soffriva di più era Simeone, il fratello di Lorenzo. Dapprima si vergognava a chiedere gli spiegazioni su quel presunto scandalo, tanto da non riuscire quasi più a guardare Lorenzo in faccia. Poi un giorno, nel cortile dietro la chiesa, trovò una lettera d'amore della ragazza. Era indirizzata a Lorenzo. Allora si presentò nella stanza del ragazzo e gli sbattì la lettera in faccia, chiedendogli spiegazioni e subissandolo di domande pressanti. Il volto splendido e lieto di Lorenzo arrossi di colpo. «Quella fanciulla si è innamorata di me, ma mi ha solo mandato delle lettere. Io non le ho mai rivolto la parola», gli disse. Simeone, plagiato dalle voci sul conto del ragazzo, divenne ancora più insistente. Gli occhi di Lorenzo si colmarono di tristezza. «Dunque persino tu mi credi un bugiardo?» gli chiese con amarezza. Poi, con un groppo alla gola, lasciò la stanza. A quelle parole Simeone provò ancora più vergogna per aver dubitato di lui. Mortificato stava per andarsene, quando ecco che Lorenzo irruppe di nuovo nella cella e si gettò al collo del fratello. «Ho sbagliato. Ti prego, perdonami», morborò con voce spezzata. Simeone non fece in tempo a dire una parola che il ragazzo lo sfinse e fuggì via, come se volesse nascondere le lacrime che gli imperlavano il viso. Simeone proprio non capiva a cosa si riferiva Lorenzo quando aveva detto «ho sbagliato», alla relazione con la ragazza o a come si era comportato lui. Dopo qualche tempo, ci fu un grande clamore quando si scoprì che la figlia dell'ombrellaio era incinta. Ma non solo. La ragazza aveva confessato al padre che il bambino che portava in grembo era figlio di Lorenzo, l'uomo che viveva a Santa Lucia. Il vecchio, accecato dall'ira, si recò immediatamente dai frati per denunciare l'accaduto. D'accanto suo, Lorenzo non poteva in alcun modo negare una simile evidenza. Il padre superiore e gli altri confratelli si consultarono quello stesso giorno e infine pronunciarono la loro scomunica nei confronti di Lorenzo. Il provvedimento prevedeva la sospensione di ogni forma di sostegno che comportava prima di tutto l'immediata privazione di ogni mezzo di sussistenza. Si racconta che i frati che tanto lo amavano allontanarono Lorenzo con le lacrime agli occhi. La permanenza di un simile peccatore all'interno di Santa Lucia avrebbe infatti compromesso la santità della Chiesa. Tra tutti, il più addolorato era Simeone che per Lorenzo era come un fratello. Ma sulla tristezza del momento prevalse la rabbia per essere stato ingannato. Così, quando il ragazzo raggiunse inestamente le porte e infine fu esposto al vento gelido, il frate non esitò a sferrare un pugno poderoso sul suo bellissimo viso. Colpito con tale forza, Lorenzo rovinò a terra all'istante e mentre si rialzava alzò al cielo gli occhi colmi di lacrime e disse con voce tremante «Padre, perdonalo perché non sa quello che fa». Sgomento per quelle parole Simeone prese a menare fendenti per l'aria e contro le porte sino a quando gli altri frati non giunsero a fermarlo. Il suo viso si era oscurato spaventosamente come il cielo prima della tempesta. Continuò a seguire con lo sguardo la figura di Lorenzo mentre si allontanava Mesto da Santa Lucia. Stando al racconto di uno dei frati presenti mentre il sole sperzato dal vento gelido si faceva strada nel cielo d'occidente di Nagasaki in lontananza il profilo gentile di Lorenzo il quale precedeva Capuchino pareva quasi andare incontro a un crepuscolo in fiamme. Da allora la vita di Lorenzo cambiò molto rispetto a quando accendeva l'incenso a Santa Lucia. Era diventato un povero vagabondo e vivacchiava in una squallida catapecchia in periferia. A causa del suo passato di credente gli infedeli lo disprezzavano. Dovunque andasse era costantemente deriso da ragazzini senza cuore e pare che fu spesso preso a pietrate abbastonate nonché ferito a colpi di spada. Quando Nagasaki imperversò una terribile epidemia di febbre rimase a soffrire per sette giorni e sette notti sul ciglio della strada. Ma Dio dall'alto della sua infinita bontà gli rese salva la vita e quando non pote permettersi neanche un pugno di riso gli fece avere noci e pesci in quantità. Dal canto suo Lorenzo non si privò mai del rosario di perle blu che teneva legato al polso per non dimenticare quando pregava giorno e notte nella chiesa di Santa Lucia e nelle notte di luna era solito sgattaiolare fuori dalla sua stamberga lontana dal centro della città e avvicinarsi più che poteva alla cattedrale per invocare la divina protezione di Gesù Cristo. Ma nessuno dei fedeli che frequentavano la chiesa a cominciare dai frati che un tempo gli voltarono le spalle provò mai compassione per Lorenzo erano tutti convinti della veridicità dello scandalo che gli era costato la scomunica per cui mai avrebbero immaginato che quel ragazzo fosse ancora in possesso della giusta devozione per avvicinarsi a Santa Lucia. Per Lorenzo era tutto molto doloroso ma non poteva fare altro che seguire quella che era una delle innumerevoli imperscrutabili vie del Signore. Ma torniamo alla figlia dell'ombrellaio. Non molto tempo dopo la scomunica di Lorenzo diede alla luce una bambina prematura di un mese. Persino quel vecchio testone di suo padre smise di essere odioso grazie al bel visino della nipotina e assieme alla figlia iniziò a prendersi cura di lei con ogni premura. la teneva in braccio la cullava e a volte le portava qualche bambolina per giocare. Se questo comportamento era normale per il vecchio non si poteva dire lo stesso di padre Simeone. Dopo che la ragazza ebbe partorito andava a far visita all'ombrellaio ogni volta che poteva. Quel gigante così forte che avrebbe potuto domare il diavolo in persona prendeva la bambina tra le sue braccia possenti e la cullava mentre sul suo viso amareggiato scendevano le lacrime. in quei momenti ricordava la figura gentile e discreta del suo amato fratello Lorenzo. Per canto suo la ragazza pariva risentita per non aver mai visto Lorenzo presentarsi da lei dopo aver lasciato Santa Lucia e inoltre sembrava non gradire molto nemmeno le visite di Simeone. Come recita un detto del mio paese il tempo vola i mesi si susseguirono e in un batterdali un intero anno passò. Una notte accadde un disastro inaspettato. Scoppiò un grande incendio che erase al suolo mezzo a Nagasaki. Pareva fossero suonate le trombe che annunciavano l'apocalisse tanto terribile ed esolante era lo scenario creato dalle fiamme. Disgraziatamente quella notte andò distrutta anche la casa del vecchio ombrellaio. L'edificio si incendiò all'istante presi dal panico il vecchio e la figlia cercarono di fuggire ma si accorsero che nessuno di loro aveva con sé la bambina e la foga l'avevano dimenticata nella sua stanzetta. Il vecchio si misò a urlare imprecando mentre la figlia si sarebbe precipitata di nuovo dentro la casa se gli altri non l'avessero trattenuta. Il vento si fece via via più intenso e con un boato le fiamme si alzarono quasi fino a raggiungere le stelle. Tutti i cittadini che sino a quel momento avevano cercato di arrestare l'avanzata dell'incendio confusi e spaventati dovevano ora placare il dolore della ragazza che sembrava come impazzita. Accorse anche padre Simeone facendosi largo in mezzo alla folla. Non appena intuì la gravità della situazione si settò con coraggio in mezzo all'incendio ondeggiando tra le fiamme come un guerriero che schiva le frezze sul campo di battaglia. Ma dopo aver provato due o tre volte a farsi strada in mezzo al fumo fu costretto a tornare indietro di corsa. Non c'è più niente da fare questo è il volere del signore. Era inevitabile disse sconsolato raggiungendo il vecchio e la ragazza. In quel momento uno sconosciuto vicino all'anziano ombrellaio cominciò ad urlare Signore abbi pietà di noi. Simeone si voltò di scatto in direzione di quella voce così familiare. Era Lorenzo non c'erano dubbi e il suo bel viso smagrito illuminato dalle fiamme aveva assunto un bagliore rossastro mentre sulle spalle gli cadevano i lunghi capelli neri scompigliati dal vento. Anche se era diventato un vagabondo il povero Lorenzo appariva bellissimo anche in quello stato di indigenza e ora si trovava là in mezzo alla gente gli occhi fissi sulla casa in fiamme. Ma durò lo spazio di un attimo. Nel momento in cui una spaventosa raffica di vento scosse le fiamme Lorenzo si gettò a tutta velocità fra i pali travi e muri infuocati. Simeone era brividi dallo spavento e iniziò a tracciare con la mano segni della croce nel cielo. Signore abbi pietà di noi ripete anche egli. In quel momento chissà per quale motivo rivide davanti ai suoi occhi il profilo splendido e dolente di Lorenzo mentre abbandonava Santa Lucia e si incamminava nel sole sversato dal vento gelido. I frati presenti furono stupiti dall'azione coraggiosa di Lorenzo ma non potevano dimenticare la condotta depravata che aveva avuto in passato. Tra gli astanti rimbalzavano con menti poco lusinghieri che il vento portava di bocca in bocca. È proprio vero l'amore di un genitore non conosce ostacoli. Lorenzo non si era più fatto vedere per la vergogna del suo peccato ma in questo istante è in mezzo alle fiamme per salvare la vita della sua unica figlia disse qualcuno. Persino il vecchio ombrellaio sembrò trovarsi d'accordo con quelle parole e mentre fissava Lorenzo quel cuore in gola continuava a blaterare sciocchezze ad alta voce per mascherare la sua agitazione. La figlia inginocchiata a terra teneva le mani sul viso e continuava a pregare intensamente senza muovere un muscolo. Dal cielo sembrava cadere una pioggia di scintille mentre il fumo che lambiva la terra tutto intorno le copriva il viso ma assorta nella preghiera com'era nemmeno ci faceva caso. Dopo qualche istante la folla fu nuovamente in fermento. Era riapparso Lorenzo. A vederlo riemergere dalle fiamme trafelato con la bambina stretta tra le braccia pareva un dio disceso dai cieli. In quel momento cadde una trave ormai consunta dal fuoco e si alzò un muro di fiamme e fumo che inghiottì Lorenzo con un boato spaventoso. Tutto quel che restò fu una colonna di fuoco increspata simile a corallo. Atterriti da quella disgrazia tutti i presenti da Simeone al vecchio e agli altri cristiani rimasero sconvolti. La ragazza che era ancora inginocchiata scoppiò in un pianto disperato e balzò in piedi ma un attimo dopo si prostrò di nuovo a terra come colpita da un fulmine. Che ci crediate o meno in quell'attimo preciso si ritrovò il colpicino della sua bambina tra le braccia. Si è lodata l'infinita saggezza di Dio. Non esistono parole adatte per celebrare la sua onnipotenza. Colpito a morte dalla trave rovente con le ultime forze Lorenzo aveva lanciato la bambina fuori dalle fiamme che per fortuna era atterrata ai piedi della giovane madre illesa. Alla voce incrinata da lacrime di gioia della fanciulla ancora prostrata a terra si unì quella maestosa del vecchio che intonava un canto di lode per la misericordia divina. Anzi più che unirsi si può dire che la sovrastò. E quando Simeone si gettò ancora una volta tra le fiamme con la ferma intenzione di salvare Lorenzo il canto straziante del vecchio si levò ancora più alto nel cielo notturno. L'anziano ombrellaio però non era solo. Alla voce sua e della figlia alla voce sua e della figlia si aggiunsero all'unisono quelle di tutti gli altri fedeli che tra le lacrime imploravano Signore abbi pietà di noi. Alla fine il figlio della Vergine Maria nostro Signore Gesù Cristo che tutto vede delle tribolazioni umane diede ascolto a quelle invocazioni. Guardate quello che sta fuggendo tra le fiamme e il fumo non è Simeone? E tra le brazza? Non tiene forse Lorenzo orrendamente ustionato? Quella notte accaddero altri eventi straordinari. Per prima cosa i frati presero l'anzimante Lorenzo sulle spalle e si incamminarono contro vento diretti a Santa Lucia. Una volta giunti alle porte della chiesa la figlia del vecchio ombrellaio che sino a quel momento aveva tenuto la bambina stretta a sé si buttò ai piedi del padre superiore e confessò davanti a tutti spinta dal rimorso. Questa bambina non è figlia di Lorenzo la verità è che ha avuto una storia adulterina con un vicino di casa un infedele ed è nata lei. La voce tremante e gli occhi bagnati dalle lacrime non lasciavano alcun dubbio sull'autenticità della sua confessione. Sentendo quelle parole ai frati si gelò il sangue nelle vene rimasero tutti impietriti dimentichi persino delle fiamme che illuminavano il cielo a giorno. La ragazza proseguì soffocando le lacrime. Ero innamorata di Lorenzo ma la sua fede era così ferma che non mi degnò mai di uno sguardo e così iniziai ad odiarlo. Fu allora che decisi di spargere la voce che la bambina fosse sua ma Lorenzo aveva un animo troppo nobile per odiarmi e stanotte ha ignorato il pericolo per salvare mia figlia da quell'inferno. E ne sarò grata per tutta la vita. La sua compassione la sua generosità sembra la reincarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. Quando penso agli atroci peccati che ho commesso provo un immenso rimorso e vorrei essere fatta a pezzi dagli artigli del diavolo. Non aveva ancora finito di parlare che si gettò per terra scoppiando in lacrime. In quell'istante tra i cristiani presenti che nel frattempo si erano quasi triplicati si alzò un coro che pareva un'onda è un martire è un martire Vintagiarrimo Lorenzo si era mostrato compassionevole verso la peccatrice al punto da ridursi a un povero pezzente seguendo le orme di nostro Signore Gesù Cristo eppure nessuno era riuscito a leggere nel suo cuore nemmeno il padre superiore per il quale era come un figlio né tantomeno suo fratello Simeone. Che cos'era dunque se non un martire? ma sentendo le parole di quella penitente Lorenzo non fece altro che annuire col capo due o tre volte i capelli bruciati e la pelle ustionata le brazze e le gambe immobili non dava alcun segno di poter dire una parola Simeone il vecchio ombrellaio stretti intorno al suo capezzale cercavano di essergli di conforto più che potevano ma il suo respiro stava venendo meno e la fine non sembrava lontana solo una cosa era immutata il colore dei suoi occhi parevano stelle e fissavano i cieli lassù in lontananza dopo aver ascoltato la confessione della ragazza il padre superiore con la barba canuta scompigliata dal vento notturno diede le spalle alle porte di Santa Lucia poi disse con tono solenne siano benedetti coloro che si pentono come può la mano dell'uomo alzarsi su di loro d'ora in avanti sii più ferma nell'osservare i comandamenti di Dio e attendi con serenità il giorno del giudizio finale guardate Lorenzo la sua volontà di seguire le orme di nostro Signore Gesù Cristo e la sua bontà che ha pochi uguali in tutto il nostro paese per di più un ragazzo così giovane il frate tacqua improvvisamente e guardò Lorenzo che giaceva ai suoi piedi come se stesse ammirando la luce del paradiso aveva un aspetto così nobile le sue mani tremavano in modo inusuale e il viso raggrinzito del vecchio padre fu solcato da un flusso incessante di lacrime se ne accorsero anche Simeone e la figlia dell'ombrellaio quello splendido ragazzo giaceva in silenzio davanti alle porte di Santa Lucia bagnato dal bagliore di fiamme più rosse del sangue di Gesù Cristo ma quelli che spuntavano sul suo petto tra le pieghe della veste bruciacchiata non erano forse dei seni rotondi come gocce di rugiada sebbene avesse il viso mezzo bruciato ora il suo candore la sua purezza non potevano più essere celati sì Lorenzo era una ragazza una ragazza la muraglia umana di Cristiani voltò le spalle all'incendio per guardare quel Lorenzo che era stato cacciato da Santa Lucia per la sua condotta depravata era una bella fanciulla giapponese proprio come la figlia dell'ombrellaio si racconta che per i presenti quel momento fu quasi un'epifania come se avessero sentito la voce di Dio provenire dai cieli più remoti dove non arriva la luce delle stelle dopo essere stati di fronte a Santa Lucia fino a quell'istante si inginocchiarono tutti attorno a Lorenzo a testa china come piante di grano piegate dal vento tutto ciò che si poteva sentire era il crepitio delle fiamme che incendiava nel cielo e i singhiozzi di pianto erano della figlia dell'ombrellaio o magari del fratello Simeone che scaldava le mani tremanti di Lorenzo mentre alle sue orecchie giungevano le parole delle sacre scritture lette dai frati con triste solennità Lorenzo esclamò ma quando le preghiere finirono la giovane giapponese chiamata Lorenzo aveva esalato il suo ultimo respiro le labbra erano rimaste contratte in un accenno di sorriso e ora i suoi occhi vedevano la gloria del paradiso nel cuore della notte ancora buia della vita di quella ragazza non si conosce altro d'altra parte che differenza farebbe la grandezza delle persone si definisce in un solo irrepetibile momento è questo che rende la vita degna di essere vissuta proprio come la luce della luna che dopo essere rimasta a lungo nascosta nella schiuma del mare si abbatte come un'onda sul cielo notturno delle passioni umane in fondo che ha assistito alla fine di Lorenzo non ha forse conosciuto la sua vita intera Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.